Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda parte della quinta puntata. In particolar modo, ovviamente avevamo visto nelle prime due parti un'introduzione alla programmazione, poi avevamo visto una parte legata ai sistemi operativi e alle reti, quindi la parte correlata a come i programmi Snap si affrontano con i programmi in C e in Python, anche qualcosa sul Raspberry, e poi nella parte A della quinta puntata avevamo visto le applicazioni dell'informatica e dell'ingegneria. Io avevo scelto arbitrariamente, ovviamente, ma secondo me in modo ragionevole la trasformata di Fourier, in modo tale da mostrare che cosa si può realizzare con poche righe di codice, diciamo una decina di linee di codice, che abbia già un utilizzo effettivo in campo scientifico e in particolar modo in campo ingegneristico. Abbiamo visto cose, secondo me, interessanti. In questa puntata quinta B, quindi l'ultimissima parte di questo corso di azzeramento, vedremo le problematiche. In sostanza, quello che mi interessa è far sì che voi possiate vedere come il computer, adoperato con linguaggi di programmazione di vario tipo, può dare grandi vantaggi, ma se non si conoscono correttamente i suoi limiti, e per far questo è purtroppo indispensabile conoscere il funzionamento anche ad un livello relativamente basso, certo non i singoli transistor, e se non si hanno appunto queste conoscenze, si rischia di sostanzialmente incorrere in problemi apparentemente ignoti. Bene, vedremo dunque, tutto ciò lo vediamo in Snap prima e in C++ poi. Ha due parole sulla macchina virtuale, io ho installato anche, siccome nel frattempo tra la prima puntata è questa, è uscito la versione 5 dello Snap, io ho provveduto a scaricarla in modo da poterla utilizzare in locale, oltre che usare la via rete come vi ho già fatto, ed è qua, ok? Quindi quando utilizzerete la macchina virtuale l'avrete già pronta, e quindi per far partire Snap basta fare così e ovviamente è operativo. Allora, innanzitutto di cosa parleremo oggi? I problemi di cui parlavo non sono tanto legati alla precisione numerica che avevamo già visto ampiamente in passato, quanto al fatto che quando vi sono più programmi che girano contemporaneamente, ci possono essere delle interazioni assolutamente particolari. Allora, avevamo già visto come con Snap sia possibile realizzare programmi, diciamo, realizzare applicativi di tipo multitread, quindi multiprogrammazione. In particolar modo uno può associare uno di questi blocchi di codice ad uno sprite, generare più sprite, e uno può anche associare più blocchi di codice allo stesso sprite, che era esattamente quello che avevamo visto le altre volte, però volevo farvelo rivedere brevemente perché è importante. Allora, per esempio, vedete, abbiamo fatto una cosa di questo genere, vedete se io faccio partire, lui si muove di 100, dopodiché io questo lo duplico, lo metto qua, anziché move, lo faccio ruotare, ecco qua, e adesso se lo faccio partire, vedete che lui si muove lungo un cerchio. Ora, questo significa che noi abbiamo due programmi, due thread, vi ricordo che nel linguaggio informatico un processo è un insieme di codice, una parte, un programma a tutti gli effetti, anche se in realtà di solito si intende come programma qualcosa di un pochino diverso, ma comunque in generale, mentre il thread è un cosiddetto processo leggero, perché è meno, è più leggero da gestire per il sistema operativo. Comunque, a parte queste distinzioni, qui noi abbiamo due oggetti che potremmo tranquillamente chiamare thread, che lavorano in contemporanea, quindi questi sono tutti gli effetti programmazione multi-thread, non è quello che noi vedremo adesso, perché noi vedremo qualcosa di più raffinato, anche se è molto semplice come concetto. Ora, vediamo esattamente che cosa voglio mostrarvi. Allora, supponiamo di avere un esempio molto semplice, ok? E questo esempio è, per così dire, un esempio bancario. Noi abbiamo un primo conto, uno, e poi abbiamo un secondo conto, due. Allora, su ciascuno di questi due conti, all'inizio, quando inizia il programma, ci sono 32.000 euro, ok? Che, quindi, per due, uguale 64.000 euro totali. Dopodiché, io realizzo due programmi, che, diciamo, mi rappresentano degli utenti della banca, ok? Allora, in particolar modo, io realizzo un programma che chiamo 1, 2, 2, ok? Questo sposta, quindi fa un bonifico, per così dire, sposta 40 volte 168 euro. Questi numeri sono dovuti al fatto che, per innescare il fenomeno, io ho dovuto, diciamo, fare qualche prova, e con questi numeri funziona. Però, il problema vero è che i funzionamenti sono saltuari, i malfunzionamenti sono saltuari sporadici, e questo è peggiorativo, perché uno non sa mai se l'oggetto funziona o no, ok? Quindi sposta 40 volte 168 euro. Dopodiché, invece, io ho qui un altro, notare che sposta 40 volte 168 euro dal conto 1 al conto 2. Invece, quest'altro, ce ne abbiamo un altro, che si chiama 2, tu, 1, che sposta, invece, 20 volte 336 euro. Ok? Complessivamente, i due thread, i due processi, spostano lo stesso quantitativo di denaro, per cui, all'inizio, hanno 32.000 euro tutte e due, alla fine, devono avere 32.000 euro tutte e due, e il denaro totale deve essere 64.000. Ok? Se il denaro totale non è 64.000, oppure se uno dei due conti alla fine non ha 32.000 euro, è successo qualcosa. Ok? Bene, il lavoro che fanno questi due thread è in codice molto semplice. Ok? Lo scriviamo con una sintassi tipo C, ma va bene in tutte le maniere, ed è molto semplice. Faccio, if account 1 maggiore di 168, ok? Aperta gaffa, account 1 uguale account 1 meno 168. E poi faccio account 2 uguale account 2 più 168. Chiusa, gaffa. Ok? In sostanza, questo thread non fa altro che vedere se sul conto 1 ci sono almeno 168 euro. Se ci sono almeno 168 euro, li toglie dal conto 1 e li caiga sul conto 2. Molto semplice. In modo del tutto analogo, quest'altro processo cosa farà? Fa if account 2 maggiore di 336 ok? Aperta gaffa. Account 2 uguale account 2 meno 336. E poi account 1 uguale account 1 più 336. ok? Quindi questo thread toglie 168 euro da 1 su 2 a patto che ci siano sul conto e questo thread toglie 336 euro dal conto 2 per metterli sul conto 1 a patto sempre che ci siano sul conto sul conto 2. sul conto 2 questo lo sposta 20 volte questo lo sposta 40 e quindi complessivamente la quantità di soldi spostati è costante ok? Quindi al termine delle transazioni dovranno esserci sempre 64.000 euro in totale e in particolar modo ambedue i conti dovranno contenere 32.000 euro bene allora proviamo a vedere come fare allora qui noi abbiamo il nostro scratch e quindi cominciamo a scrivere un programma che faccia tutto questo allora se vi ricordate io posso creare più programmi che controllano lo stesso sprite oppure posso controllare più sprite alcuni videogiochi in scratch barra snap contengono un gran numero di sprite e un gran numero di personaggi per esempio che ne so 50 sprite 80 programmi per cui ci sono alcuni sprite controllati da più di un programma e così via molto complicato in questo caso noi cosa faremo useremo tre sprite e i tre sprite saranno uno per il programma per così dire master cioè quello che controlla i due e gli altri due saranno i programmi uno to due e due to uno cioè quelli che spostano al danaro quindi ho bisogno di tre sprite e in questo modo li ho creati partiamo dal primo ok allora iniziamo a realizzare il primo realizziamo il primo siccome useremo anche gli sprite cominciamo anche allineiamo anche un pochetto gli sprite stessi quindi lo andiamo andiamo a posizionare al centro e poi allineiamo anche la direzione così siamo sicuri che sia ben allineato ok dopodiché dobbiamo creare un po' di variabili che ci servono ok allora la prima è account 1 che contiene naturalmente i soldi del primo conto poi account 2 che contiene i soldi del secondo conto poi amount amount e la cifra e la diciamo e l'ammontare che viene spostato che sarà alternativamente 168 e 336 poi per diciamo ulteriore comodità realizziamo una variabile totale che ci serve come per calcolare il 64000 in modo più comodo e poi ancora realizziamo altre due variabili che si chiamano ripetizio ripetizioni 1 to 2 1 to 2 cioè quante volte noi abbiamo trasferito il denaro da 1 a 2 e poi ne facciamo un'analoga ripetizioni 2 to 1 ok è una cosa di pura comodità ok adesso dobbiamo queste abbiamo create le variabili adesso le dobbiamo dobbiamo dare a loro un valore e quindi cominciamo per esempio da account 1 e qui ci scriviamo 32000 ok poi qua ci mettiamo account 2 e anche account 2 lo mettiamo a 32000 poi l'ammontare lo mettiamo a 0 perché verrà settato di volta in volta a 0 perfetto e poi le due ripetizioni due variabili ripetizione quindi ripetizione 1 to 2 lo mettiamo a 0 e poi mettiamo anche a 0 la variabile ripetizione 2 to 1 ok con questo abbiamo inizializzato il tutto adesso per fare un po' di diciamo input output andiamo a effettuare una stampa a video del valore sostanzialmente del totale al momento ora siccome io qui voglio stampare un po' di cose tutte assieme vado a prendermi con la join quella che avevamo usato scusate questo va qua ecco allora qui anziché ello ci scriviamo una cosa del tipo valore iniziale ok e qua ci scriviamo account 1 più account 2 quindi ci serve una cosa di questo genere e poi andiamo a prendere le variabili facciamo account 1 più account 2 ok dopodiché questo in realtà lo copiamo perché stamperemo anche un valore finale e poi qui ci dobbiamo mettere una stop perché alla fine naturalmente il programma deve terminare e possiamo tranquillamente lasciarci uno stop all perché questo è il master a tutti gli effetti ok a questo punto dobbiamo lanciare gli altri due processi ok qui ne abbiamo uno perché mentre i due thread che avevamo realizzato prima erano completamente scorrelati anche se lavoravano sulla stessa variabile che era lo sprite quindi noi vogliamo che i due processi vengano lanciati dal master cioè è il master che gli deve lanciare ok ora per lanciarli si usa in snap un comando che si chiama broadcast allora questo comando broadcast genera un messaggio e questo messaggio viene per così dire mandato a tutti chi è in attesa di quel messaggio lo riceve ok adesso vedremo come fare io qui faccio new perché devo dire qual è il messaggio che voglio mandare in broadcast cioè dare diciamo diffondere payment payment allora 1 tu 2 ok quindi questo broadcast questa broadcast in realtà cosa farà chiamerà l'altro processo che sarà quello che si occupa di prendere i soldi dal conto 1 e spostarli nel conto 2 dopodiché prendo anche e anche lancio un altro vedete qui c'è scritto wait perché in questa maniera vedete questo è un po' diverso perché una volta terminato ok una volta terminato aspetta finché tutti terminino ok prima di continuare che è quello che noi vogliamo bene qui noi ci mettiamo un altro messaggio lo chiamiamo payment 2 to 1 ok bene poi ci mettiamo ancora una wait tanto per e con questo abbiamo terminato il nostro master quindi il nostro master fa qualcosa di molto semplice si porta al centro inizializza le varie variabili poi stampa il valore iniziale e lancia i due altri processi che sono uno qua e uno qua e anche al momento non ci sono ancora aspetta un secondo e poi finisce ok questa è una borsa normale questa è una borsa in wait perché deve aspettare che tutti e due abbiano terminato ok a questo punto andiamo qui e cerchiamo di sistemare il secondo il secondo processo il secondo processo sarà quello che farà i pagamenti da 1 verso 2 ok quindi sostanzialmente dovrà prendere i soldi dal conto 1 e li porterà sul conto 2 quindi anche questo essendo un po' grafico perché a me interessa che sia anche insomma che si faccia per così dire vedere lo porto in posizione 0 poi lo giro in modo tale che anche lui si alleni correttamente però non posso fare 0,0 perché se no mi andrebbe a finire sull'altro che era già 0,0 per cui metto una cosa del tipo meno 100 bene a questo punto cosa devo fare siccome il processo che sposta i soldi dal conto 1 per metterli nel conto 2 deve fare questa operazione 40 volte quindi repeat 40 ok e che cosa fa in particolar modo tanto per cominciare carica il valore dell'ammontare di amount ok quindi facciamo una cosa del genere set amount e siccome è il numero 1 ci mettiamo 168 ok quindi tanto per cominciare mette amount uguale a 168 dopodiché fa l'if di cui parlavamo prima quindi va a prendere l'if eccolo qua allora se account 1 è maggiore di amount quindi andiamo a prendere innanzitutto operatore ci serve il maggiore ecco qua se account 1 account 1 è maggiore di amount ok se account 1 è maggiore di amount cosa devo fare devo togliere i soldi dal conto 1 e metterli sul conto 2 quindi devo fare una cosa del genere change account 1 buy di meno amount ok quindi vado a prendere l'operatore che è un po' macchinoso in c e in python sarebbe più semplice allora faccio qui meno 1 per amount quindi qui praticamente in c e in python non leggerebbe account 1 uguale a account 1 meno amount che è esattamente quello che abbiamo visto in precedenza ok poi questo ce lo duplichiamo e qui invece scriviamo account 2 e qui anziché essere meno e più e quindi qui ci mettiamo 1 ok quindi all'interno dell'if non fa altro che fare questo per cui questo lo mettiamo qua lo mettiamo qua e poi lo mettiamo tutto lì dentro ok quindi se l'account 1 è maggiore di amount allora cosa faccio tolgo i soldi dal conto 1 e li metto nel conto 2 nient'altro ok a questo punto questa è la parte che deve essere ripetuta 40 volte e questo lo inserisco semplicemente qua quindi questo è il processo però scusate qui ho commesso un errore questo non è così ma è vedete qui si deve quando io ricevo e in questo caso siccome questo è 1 to 2 ecco vedete quindi quando vedete il master manda in broadcast il messaggio al processo payment 1 to 2 lui è il processo 1 to 2 quindi quando lui riceve il segnale si sveglia si porta al centro e poi ripete per 40 volte l'operazione di assegnare il valore di amount e se sul conto 1 c'è più di amount togli dal conto 1 e mette sul conto 2 ok il motivo per cui deve settare tutte le volte amount è che amount è una variabile condivisa ed è la stessa variabile che c'è anche sull'altro processo questo per inciso è il punto debole però normalmente queste sono cose che avvengono molto molto spesso nei programmi adesso io qua lo copio qui dentro ecco qua allora qui io quando ricevo payment 2 to 1 poi questo non metto più meno 100 ma metto 100 perché se no si sovrappongono poi la la 2 to 1 deve ciclare solo 20 volte però con una cifra raddoppiata inoltre qui non è account 1 ma account 2 quindi se account 2 è maggiore di amount cosa fa toglie e l'ammontare l'account 2 e lo mette sull'account 1 ok quindi vedete che lui cosa fa questo è il payment 2 to 1 cioè quello che prende i soldi dal conto 2 e li mette sul conto 1 questo deve fare 20 volte deve spostare 336 euro quindi controlla innanzitutto che sul conto 2 ci sia denaro sufficienza e se c'è lo toglie dal conto 2 e lo mette sul conto 1 ok quest'altro invece vedete 40 volte 168 per lo stesso meccanismo e questo è il master che li comanda tutti bene proviamo a lanciare il tutto e vediamo cosa succede vedete valore iniziale 64.000 valore finale 64.000 vedete che ha funzionato in realtà queste variabili non le ho nemmeno usate però vedete che sono 32.000 più 32.000 quindi questo significa che il programma funziona perfettamente il nostro sistema per trasferire i soldi in banca funziona ok allora però quello che volevo farvi vedere io è proprio un caso in cui non funziona ok allora per farvi vedere come si può complicare questa cosa in modo apparentemente semplice ma tale comunque da indurre il malfunzionamento e cosa facciamo introduciamo un po' di ritardi ok allora noi qui abbiamo questi sprite benissimo allora facciamoli ruotare in qualche maniera no in modo tale da dare anche l'idea dello scorrere del tempo quindi allora per esempio noi potremmo fare una cosa del genere anziché farli ruotare di 15 gradi le facciamo ruotare di un grado poi qui facciamo una ripitta ok e per esempio noi facciamo una cosa del genere quindi lo fa ripetiamo 10 insomma gira di 10 gradi dopodiché questo lo duplico ne metto un altro qua lo riduplico ne metto un altro qua adesso vi spiego perché lo duplico così tante volte accidenti ho sbagliato duplicate e ancora duplicate allora io adesso qui vorrei per far vedere che il tempo scorre no ne mettiamo no attenzione ecco qua allora questo lo spostiamo mettiamo uno di questi qua questo lo agganciamo qua poi questo lo togliamo lo apriamo e mettiamo uno di questi sopra uno di questi qua e uno di questi qua poi questi due li infiliamo ecco qua questo lo infiliamo qua da ci picchia allora ecco diciamo così ok ecco quindi vedete in sostanza questo punto questa parte qui la vado a rinfilare qui ecco ok e tutto questo malloppo lo vado a rinfilare lì quindi io cosa faccio ripeto 40 volte questo procedimento esattamente come prima e qui cosa faccio mi giro di 10 gradi un grado alla volta giro di 10 gradi giro di 10 gradi giro di 10 gradi niente più che questo adesso andiamo in quest'altro qua facciamo la stessa cosa ok quindi questo lo togliamo di qua poi andiamo a prendere la nostra ripita qua mettiamo 20 tanto per cambiare perché in realtà è quello importante e qua ci giriamo di nuovo di un grado poi questo coso questo oggetto lo duplichiamo lo duplichiamo lo duplichiamo ok poi andiamo a mettere uno qua questo lo incastriamo qua poi scorporiamo questo uno lo mettiamo qua uno lo mettiamo qua e uno lo mettiamo qua questo lo piazziamo qua questo lo piazziamo qua ecco qua e questo lo piazziamo qua ok quindi in questo caso ripetiamo 20 volte per la payment 2 to 1 ripetiamo 20 volte l'operazione di togliere soldi dal conto 2 e mettere il conto 1 e in più mettiamo questi questi pezzettini di codice che fanno ruotare lo sprite ok ma di per sé non fanno nient'altro ecco bene proviamo a lanciarlo e vediamo cosa succede valore iniziale sta girando adesso vediamo che cosa succede dovremmo aver quasi terminato eccolo qua vedete valore finale 62.488 e inoltre anche i due conti non hanno più 32.000 euro l'uno ok ripeto questo è un problema subdolo perché è saltato fuori soltanto perché noi abbiamo aggiunto queste repeat qua in mezzo perché per il resto non abbiamo cambiato nulla ok e tra l'altro qui abbiamo messo 20 e qui abbiamo messo 10 perché sulla base delle mie prove per indurre il problema questo era un sistema che funzionava però in certi casi non è così scontato indurre il problema ovviamente uno non vorrebbe averlo il problema però in realtà qui il problema c'è è solo che in certi casi non compare in certi casi compare e in effetti è meglio che compaia perché almeno uno sa che c'è il problema ok ora in particolar modo a cosa è dovuto vedete che io qui cosa faccio metto dentro ad amount metto il valore 168 ok dopo di che però questi due processi anzi tre no scusate qui ho fatto pasticci ok questi processi in realtà sono eseguiti assieme quindi questo significa che questa io potrei fare set amount amount potrebbe siccome una variabile condivisa vedete tra l'altro qui si capisce anche di qua vedete make variable vedete che qui non ci abbiamo mai fatto caso però vedete qui c'è scritto for all sprites for this sprite only quindi questo significa che tutte le nostre variabili sono valide per tutti gli sprite ma nel momento in cui sono valide per tutti gli sprite questo significa che se uno degli sprite modifica la variabile e l'altro la usa potrebbero esserci degli effetti collaterali per esempio io qua potrei cambiare amount in 336 ok allora scusate ma questo in effetti stava qua ok allora io potrei cambiare amount in 168 poi per qualche motivo potrebbe arrivare potrebbe venire eseguita quest'altra istruzione in cui amount viene portato 336 e poi potrebbe di nuovo essere eseguita questa if peccato che questa if sia calcolata su account 1 e si aspetta di avere il 168 non il 336 quindi questo interlacciamento di istruzioni che a priori non può venire stabilito perché dipende da quello che nei sistemi operativi è chiamato scheduler induce a questo tipo di problemi ok adesso noi lo rilanciamo di nuovo anche perché ho toccato un paio di cose giusto per essere sicuri di non avere modificato il programma quindi questo significa che a causa di questi ritardi che noi abbiamo inserito vi sono dei momenti in cui queste variabili vengono manipolate in modo non coerente per cui per esempio uno dei due thread manipola la variabile l'altro la rimanipola e poi il primo la usa e se la trova toccata sotto il naso modificata senza sapere e ti dir grazie ok ora questo è un problema molto serio vedete è venuto errato per cui come faccio a risolvere questo problema io devo accertarmi che questo blocchetto qua che c'è dentro il repeat venga eseguito in un colpo solo cioè se io eseguo questa istruzione prima di eseguire questa non deve succedere nient'altro è stessa cosa prima di eseguire questa è stessa cosa prima di eseguire questa i ritardi anche loro devono essere eseguiti tutti assieme anche se non sarebbe così importante ebbene come faccio uno dei motivi per cui io avevo scelto snap anziché scratch è perché ha a disposizione questo blocchettino grigio strano che si chiama warp se voi fate tasto destro help vedete che c'è scritto don't draw intermediate steps other scripts can't run until the warp is finished questo significa in altri termini che l'esecuzione di quello che c'è all'interno del blocchetto warp è atomica cioè avviene in una maniera indivisibile bene allora proviamoci allora questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua ok facciamo la stessa cosa per l'altro script allora facciamo così andiamo a prendere il warp lo mettiamo qua questo lo incastriamo qua e questo lo incastriamo qua quindi questo blocchettino grigio warp mi garantisce che se io eseguo questa istruzione poi dopo devo eseguire tutte le altre finché non ho finito queste istruzioni e quindi non finisce il blocchetto warp nessun altro potrà andare a toccare la variabile amount e anche la variabile account ok si chiama esecuzione atomica ora questa cosa adesso vedete che adesso lo lanciamo adesso dovrebbe funzionare vedete il valore iniziale 64.000 e vedete che alla fine il valore finale è di nuovo 64.000 e inoltre i due conti rimangono da 32.000 all'uno come dovrebbe essere ok in sostanza noi abbiamo visto che in certe condizioni e qui parliamo non parliamo più di problemi di precisione numerica di calcolo parliamo di qualcosa di molto più generale molto più delicato legato al fatto che possono esserci più programmi che interagiscono sugli stessi dati e i dati possono essere file variabili può essere un po' di tutto e questo tipo di problema oggi come oggi è estremamente diffuso per il semplice motivo che i computer di oggi hanno tutti molti processori per esempio quel portatile che sto usando adesso ha 4 core cioè 4 processori ora se questi processori eseguono calcoli diversi ma sulle stesse variabili possono succedere e possono avvenire questi problemi e questi problemi sono molto difficili più che altro da individuare perché una volta individuati tutto sommato non è così difficile abbiamo visto che qua ovviamente l'esempio era fatto apposta è bastato inserire questo blocchetto intendiamoci questo blocchetto ha il suo costo perché il fatto che questo pezzo possa essere eseguito solo in un colpo solo fa sì che il lavoro non possa essere ben distribuito sui vari processori però funziona e funziona bene e in certi casi non c'è altra soluzione quindi volevo in questo caso farvi vedere qualcosa cosa che non è più ovviamente relativo a un corso di azzeramento qui noi parliamo di cose che vengono normalmente insegnate al terzo e quarto anno di ingegneria informatica quindi parliamo di cose molto raffinate per certi versi però quello che volevo mostrare era come con un linguaggio grafico che è stato progettato esplicitamente per i bambini per i ragazzini diciamo da 8-16 anni si possono vedere delle cose molto raffinate molto sofisticate in modo tale da capire che i calcolatori hanno notevoli vantaggi ma possono anche essere subdoli e per evitare questo tipo di problematiche è importante conoscere bene come funziona il calcolatore non nei minimi dettagli però almeno quanto basta ok quindi anche se vi dovesse capitare di scrivere programmi relativamente semplici se questi programmi per esempio sono costituiti da più programmi assieme cosa che secondo me vi capiterà indipendentemente dal tipo di ingegneria che farete e ricordatevi che esiste questo problema e questo problema è subdolo è difficile da individuare ora ve l'ho mostrato in snap perché per far vedere che era un problema del tutto generico qui però c'è anche il codice in c++ perché in c++ diciamo che le prestazioni del calcolatore sono molto superiori c++ è un linguaggio del tutto analogo al c solo che ha oggetti e ha prestazioni molto elevate ora se noi andiamo a vedere questo codice vedremo che di fatto questo rispecchia pressoché completamente quello che abbiamo fatto in snap questo è il main che è di fatto il master quello che abbiamo realizzato come master benissimo allora vedete che esattamente come abbiamo fatto dall'altra parte c'è una printf che stampa il valore originale cioè il valore in euro sui due conti e nonché il totale vedete che qui per esempio stampa il totale poi cosa fa qui stampa l'ammontare finale e poi queste due istruzioni qua sono istruzioni che generano due processi anzi per meglio dire li instanziano e li lanciano ok quindi se vogliamo fare il paragone con snap ecco ci mettiamo qua vedete che questi due qua corrispondono grosso modo a queste due broadcast nel senso che qui non c'è la dichiarazione del thread però viene lanciato ed è quindi corrispondente a queste due broadcast e queste due join sono l'equivalente per certi versi di questa wait per cui questi due join permettono di raccogliere le fila del programma una volta che i due thread hanno terminato ok andiamo a vedere i due thread i due thread fanno esattamente quello che c'è vedete qua innanzitutto nelle variabili vengono messi i valori del contenuto dei conti notate che qui i valori sono un po' diversi anche il numero delle ripetizioni anche l'ammontare parzialmente perché in C++ il programma è molto più veloce e se noi vogliamo vedere questi effetti collaterali dobbiamo per così dire riuscire a stimolarli correttamente e quindi tutti questi numeri li ho trovati principalmente per tentativi perché naturalmente sapendo io che il problema esiste l'ho prodotto insomma l'ho causato l'ho reso evidente perché in molti casi non si vede ok questo non vuol dire che non ci sia semplicemente non si vede quindi vedete qua per esempio 10.000 iterazioni e non 20 o 40 ok però il codice è lo stesso vedete amount 168 se è maggiore di amount tolgo i codici questa è una sintassi tipica del C significa account 1 uguale account 1 meno amount abbastanza semplice e questa account 2 uguale account 2 più amount e dopodiché qua sotto fa la stessa cosa per la payment 2 to 1 bene allora proviamo quindi a compilare questo programma allora G++ race l'ho chiamato race perché nell'informatica questo tipo di di errori sono chiamate corse ok race conditions ok dopodiché noi qui facciamo lp thread allora cosa serve questo questo parametro aggiuntivo meno L sta per libreria perché io sto linkando una libreria se ricordate quando io compilo c'è la compilazione e il link io avevo disegnato lo schemino in cui compilazione e link erano insieme questo è un caso in cui sono effettivamente separate e quindi vanno fatte tutte e due perché perché io uso la libreria per i thread e gli devo dire di usare la libreria per i thread adesso io lo compilo e vedete che io adesso lo posso lanciare vedete 64.000 ecco allora guardate al secondo tentativo è già venuto sbagliato vedete abbiamo perso del denaro e i due non sono 32.000 andiamo avanti ecco questo è l'altro caso ancora più subdolo vedete il denaro complessivo è lo stesso però un corso un conto ci ha rimesso l'altro ci ha guadagnato non va bene ok vedete questo invece è a posto questo è a posto questo non è di nuovo a posto questo è a posto questo non è a posto perché vedete che di nuovo si è creato uno sbilanciamento di soldi questo è a posto questo non è di nuovo a posto un altro tipo di sbilanciamento ok questo è a posto e così via quindi voi capite che esattamente come abbiamo visto dentro Snap questo modello di funzionamento è molto pericoloso perché significa che noi abbiamo realizzato un programma semplicissimo in cui noi abbiamo due thread uno sposta il denaro da una parte ecco immaginate di essere che ci siano due persone una delle due persone fa dei bonifici dal proprio conto a un altro l'altro fa i bonifici verso opposto per esempio non lo so immaginate un negozio che per qualche motivo fa dei trasferimenti di denaro per comprare del materiale e immaginate che se questo tipo di problema non fosse affrontato correttamente voi capite che in banca i soldi diciamo che verrebbero o generati cosa che la banca non andrebbe molto a genio oppure più presumibilmente persi da parte di qualcuno o comunque spostati quindi è evidente che i programmi gestionali che fanno questo tipo di trattamento del denaro considerano con grande attenzione questo problema ok? perché altrimenti sarebbe un grosso guaio allora abbiamo visto come rimediare con il blocchetto warp in snap ci serve qualcosa di analogo ci serve qualcosa che dica guarda che questo pezzo deve essere eseguito in un colpo solo ok? quindi andiamo a riaprire il file vedete a me servirebbe che questo blocchetto qui da qui fino a qui venga eseguito in un colpo solo ebbene per realizzare questo tipo di cosa qui c'è il commento pronto e mi serve quello che è chiamato un mutex il mutex è sostanzialmente un semaforo binario che può essere verde oppure rosso allora diciamo che se io faccio mtx lock mtx l'ho chiamato così perché vedete qui è istanziato come mtx posso mettergli qualsiasi nome anche pippo non cambia niente quello che conta è che c'è scritto punto lock questo punto lock indica guarda blocca il semaforo cioè fallo diventare rosso questo significa che gli altri processi non payment 1.2 1.2 ma l'altro payment 2.2 1 non potranno accedere alla variabile amount e neanche a quelli account fino a che questo semaforo non diventerà di nuovo verde quindi qui diventa rosso dove ho il cursore rimane rosso per tutto il tempo e poi qui questo unlock lo fa ridiventare verde ok per cui quest'altra quest'altra quest'altro thread a sua volta farà la stessa cosa evidente che se il secondo thread trova il semaforo rosso fa come si fa i semafori rossi in città ci si ferma si ferma e attende prima o poi il semaforo diventerà verde e lui passerà passando il semaforo diventerà rosso per lui e quindi l'altro non potrà a sua volta intervenire ok ovviamente è molto importante che queste lock and lock vengano messi correttamente perché altrimenti si blocca tutto ok comunque adesso non stiamo ad andare troppo nei dettagli adesso questo io lo salvo lo ricompiliamo eccolo qua ricompilato adesso lo lanciamo e vedete che grazie a questo sistema vedete che io l'ho già lanciato molte volte ma i valori non cambiano mai rimangono sempre corretti e uguali non solo il totale rimane 64.000 quello che è ma anche i due parziali rimangono giusti come giustamente deve essere vedete io sto continuando a inserirlo ma allora voi direte come faccio ad essere certo già prima era una cosa che non avveniva sempre magari adesso avviene una volta su un milione allora sì effettivamente è vero però è anche vero che io ovviamente ho fatto questo un classico esempio che si trova su tutti i libri di sistemi operativi ed è il classico esempio che si fa in questi casi e quindi mi sento di poter dire con ragionevole certezza che che questo programma fa quello che deve fare se adesso noi andiamo a togliere i mutex cioè questi semafori binari quindi le commento vi ricordo che lo slash slash è un commento vedete che il nano ha la la sintassi colorata e quindi riconosce i commenti del C++ e cambia il colore in azzurro ok io adesso salvo ctrl x save ricompiliamo g più più raise meno lp thread adesso lo rilanciamo giusto giusto non è più giusto vedete che qui abbiamo distrutto denaro ok e vedete qui a posto qui vedete non è a posto perché il totale è giusto ma i parziali non sono a posto qui abbiamo creato no abbiamo distrutto denaro anche qua e così via ok ok quindi in sostanza in questa puntata questa parte B della quinta puntata abbiamo visto come sia in certi casi molto facile avere dei problemi che peraltro sono di difficilissima identificazione poi la soluzione è tutto sommato abbastanza semplice però sono difficili da identificare quindi ancora una volta vorrei sottolineare esattamente come era avvenuto quando avevamo sottolineato tutti i problemi relativi alla precisione di calcolo numerico se vi ricordate l'esempio che avevamo fatto con il numero 072 qui non c'entra niente la precisione numerica qui c'entra il fatto che i computer di oggi hanno normalmente molti processori per esempio il portatile come vi dicevo che uso io che sto usando io 4 core questi 4 core eseguono programmi diversi thread diversi e questi thread interagiscono tra di loro su dati molto spesso in comune e questa interazione causa problemi e questi problemi sono difficili da identificare e in molti casi producono effetti collaterali a lungo termine difficili da identificare bene allora direi con questo che sostanzialmente abbiamo terminato questa parte 5b questi gli vari argomenti che abbiamo visto sono di varia di varia importanza nel senso che nelle prime due puntate abbiamo visto sostanzialmente un'introduzione alla programmazione la terza puntata ha visto tutta la parte relativa ai sistemi operativi c'era anche un po' di rete di reti di calcolatori web e quant'altro e poi abbiamo visto come confrontare i programmi in snap con i programmi in c e python e qui abbiamo visto qualcosa passatemi il termine di sfizioso diciamo che in questa ultima puntata la quinta abbiamo visto delle cose che non sono più da corso di azzeramento però ci tenevo a mostrarvi come il calcolatore possa con poche linee di codice fare molto veramente molto quindi per l'ingegneria possa essere comodo molto comodo per realizzare grafici non abbiamo visto come fare ma si possono ovviamente disegnare grafici di funzioni molto facilmente in python e fare cose che hanno già un valore interessante cose che vi potreste anzi molto probabilmente dovrete fare poi per la tesi ebbene quindi una parte degli argomenti che sono stati visti in questo corso di azzeramento verranno poi ripresi e approfonditi adeguatamente nel corso di informatica del primo anno un'altra parte non verranno ripresi verranno per chi di voi fa ingegneria informatica verranno trattati direi tutti tutto quello di cui ho parlato ovviamente viene poi trattato dentro ingegneria informatica e ovviamente anche con altre cose che naturalmente è ingegneria informatica è specializzata proprio su questo campo però anche per chi non è di ingegneria informatica quindi la maggioranza di voi io ho pensato di mettere di portare di far vedere delle informazioni che possono essere di utilità per capire cosa può fare il computer cosa non può fare e poi in generale io sono convinto che quello che vi ho mostrato sia utile anche per i non specialisti sia chiaro che quello che vi quello che si vede in questi filmati in generale non vi verrà chiesto nel corso di informatica perché naturalmente questo non ha nulla a che fare con il corso di informatica vi serve a per così dire dare un un azzeramento il là ok però come vi ho già detto io sono convinto che si tratti di informazioni molto utili informazioni che vi possono essere di grande utilità per finire vi ricordo che la macchina virtuale questa macchina linux verrà distribuita quindi sarà e a disposizione io adesso non farò altro che fare un minimo di pulizia e poi congelare la macchina virtuale per poterla distribuire avrete naturalmente anche i file complessivi tutti questi vari file le slide e poi realizzerò anche un diciamo un file di minutaggio in modo tale che voi possiate individuare le posizioni precise all'interno dei filmati perché purtroppo un filmato non è come un libro è un po' più difficile da scorrere bene direi che con questo abbiamo terminato naturalmente la macchina virtuale linux viene distribuita quella o windows ovviamente non è possibile farlo per motivi di licenza e con ciò direi che ho terminato vi ringrazio per l'attenzione e con ciò termino grazie grazie